Ma come fanno a far recitare gli animali nei film? Nomi come Rex, Lessie e tanti altri cani, gatti o animali sono entrati nell'immaginario collettivo di grandi e piccini. Ma spesso questi animali manifestano un'intelligenza che non hanno nella realtà, anche se si tende a scegliere i cani perché sono tra gli animali più intelligenti e più facilmente ammaestrabili. Il cane in particolare è un animale che si presta alle interpretazioni cinematografiche. Avete mai visto un coniglio poliziotto? Beh, un motivo ci sarà. Ma come fa un cane a diventare attore? Un cane che diventa attore deve aver subito un addestramento che nella maggior parte dei casi è molto rigido. Anche il padrone deve essere un mezzo attore, perché non dimentichiamoci che nella maggior parte dei casi il padrone è lì presente sul set mentre si girano le scene. Ovviamente è sempre fuori dall'inquadratura, in silenzio e deve far capire al cane cosa fare in ogni momento. Insomma, nel commissario Rex, nelle scene in cui c'è Rex e il poliziotto, ovviamente sul set c'era anche il padrone che dava gli ordini e le indicazioni al cane per muoversi e fare alcune cose in un certo modo. Per far diventare un cane attore ci sono i casting per i cani, che vengono fatti da esperti addestratori per conto delle società produttrici, Rai e Mediaset ad esempio. I cani per i film vengono scelti prima dall'aspetto, poi dal temperamento e poi dalla spinta al lavoro e all'attenzione. Quando vengono scelti, cane e padrone devono rimanere sul set per tutta la durata delle riprese. E il cane, come ogni altro attore, viene pagato, o meglio, viene pagato il padrone per conto del cane. Ma come si addestra un cane da film? L'addestramento di un cane per le riprese di un film non è tanto diverso dall'addestramento di un cane in generale. Certo, è un addestramento duro, deve iniziare quando il cane è molto piccolo, diciamo dalle otto settimane di vita, e che deve essere continuato non solo durante le ore di addestramento, ma soprattutto quando il cane è a casa, rispettandolo chiaramente e non maltrattandolo. Quindi bisogna fargli fare tutte le cose che gli si dicono, seduto, la zampa, a terra. Ma queste sono solo le basi, ce ne sono tanti altri che vengono insegnati ai cani per muoversi in un certo modo sul set. Il cane deve rimanere attento anche quando ci sono altri cani, anche perché le scene in cui ci sono altri cani ne abbiamo viste tante al cinema, e soprattutto quando tante persone, che sono tutti i tecnici, gli attori, che si trovano sul set, provano a distrarlo. Quindi se siete convinti che il vostro cane abbia delle chance per partecipare a questi casting, ci sono tante aziende e agenzie e che cercano continuamente cani da addestrare per farli diventare attori. Li potete trovare su internet. I cani sul set vengono trattati bene, piacciono praticamente a tutti, e se ci fosse la possibilità di guadagnare qualche soldo, sia per voi che per il vostro fido animale domestico, non sarebbe un'idea da buttare via. A proposito, ma quanto vengono pagati i cani nei film? In genere, mentre alcuni cani possono portare a casa fino a 400 dollari al giorno, la maggior parte, la media, è tra i 50 dollari e i 100 dollari al giorno. Ricordiamo nel Mago di Oz il cane, famosissimo, arriva a guadagnare migliaia di euro, ma stiamo parlando di un'altra epoca e di un'altra generazione, anche di attori canini. E per quanto riguarda gli altri animali? Oggi con la computer grafica riusciamo a ricreare tutti i tipi di animali, ma in passato, quando mancava la tecnologia necessaria, ci si affidava a diverse riprese e inquadrature di animali presi da un documentario o dallo zoo. Emblematica è la scena dell'orsa nell'armata Branca Leone. Quando l'animale è ripreso da vicino, è probabilmente una vera orsa ripresa in un giardino zoologico, dicevamo, o in un documentario. Quando però è vicina agli esseri umani, è una persona che si è mascherata ed è anche abbastanza evidente in un film di quel tipo. Oggi con la CGI ricreare un orso non è difficile, lo abbiamo visto anche in Revenant con Leonardo DiCaprio. Per quella scena l'orso venne ricreato totalmente con la computer grafica che richiese quattro giorni alla troupe tra prove e riprese. Durante la preparazione di un film però può capitare che nella storia ci sia la presenza di un animale morto. La narrazione infatti può prevedere la presenza di un animale che deve essere ucciso o che viene già trovato morto. Per queste scene non si possono usare animali vivi. Di fatto addormentare un animale per girare una scena di un film è vietato. Allo stesso tempo però non si possono usare carcasse di animali morti per motivi di igiene. Perciò ci si affida ad un tassidermista. È colui che imbalsama gli animali. Se l'animale richiesto è di facile reperibilità e se è già in possesso dell'imbalsamatore, egli procederà a realizzare la preparazione come da richiesta del regista o dello scenografo. Insomma, c'è un mondo dietro gli animali nei film? Ditemi nei commenti se conoscevate questa curiosità. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube, c'è anche azione, seguiteci su Facebook e Instagram dove tutti i giorni parliamo di film e serie TV. Al prossimo video!